Mattia, qual è l'esperienza di questa Summer Life che è l'oratorio feriale, ma che per tanti motivi non lo è quest'anno? È un'esperienza un po' insolita, solitamente siamo abituati a seguire dei ritmi diversi, però come ogni anno cerchiamo di metterci in gioco, di dare una mano, quest'anno anche noi più grandi, di fatto lo staff è un pochino più numeroso perché abbiamo delle regole da seguire, però in un modo o nell'altro cerchiamo di divertirci, dare una mano ai ragazzi, è proprio un lavoro di squadra a tutti gli effetti. Qual è la tua esperienza Gaia? È il primo anno che fai l'educatrice? No, ho fatto l'animatrice e adesso faccio l'educatrice con il gruppo media di questo oratorio e per me essere qui in questa Summer Life è sicuramente diverso rispetto alle state di passate, ma forse appunto perché abbiamo passato dei mesi un po' difficili l'abbiamo desiderato molto più degli altri anni.